Tutto questo non finirà se l'app Illesi non si scaricherà. Dobbiamo usare la tecnologia per combattere l'epidemia. Usate il cervello e non sfidate il virus 19 a duello. Ehi tu, possibile positivo, hai scaricato l'app Illesi. Dici a moi? Sì, tu giovanotto, che aspetti a downloadarla? No, intendevo io positivo. Se non la scarichi come facciamo noi altri a sapere se non lo hai già contratto? Accessorio, a chiamata o di apprendistato? Cosa? Il contratto che dicevi? Fai poco lo spiritoso, c'è gente che sta morendo. Prima della pandemia la gente era immortale immagino. Non pensare di abusare così del mio tempo libero d'attivista amico. Ok, pfut. Vieni qui che ti do una termoscannerata. Ehi fra, io abbasso la testa solo per guardarmi le Air Max. Ehi ma prima non le avevi ai piedi? Vabbè, adesso sto qui finché non l'hai scaricata. Hai idea di come mi vibreranno i pantaloni in autobus? Dannazione, è per il nostro bene. Perché come ho già scritto su Facebook, Instagram e Twitter ci tengo alla riservatezza dei mie dati. Dai, immagina come potrai lamentarti di chi non l'ha ancora scaricata. No, e poi le continue notifiche dell'app rovinano l'atmosfera e le pizzate di gruppo. Co-cos'è che fate voi? Se vuoi ti passo la versione craccata con il filtro che fa le orecchie da coniglietto. Cazzo, passami le pvt su Insta prima che la tolgano. Cazzo, passami i